Non si credo, wow! Ciao! Ah, che bello, mi sento molto bello! Che ti fate tutto presentare da un dottore? Non posso andare dal dottore, il tuo mio lavoro non ho la copertura sanitaria. Lavoro? Quale lavoro? Ecco il punto. No, sono proprio un genio! Ora ti fare la visita, signor Marta Stella. Grazie a tutti!